la gamba perché i cittadini italiani non possono eleggere qualcuno se non è membro no ma lei dopo dovrà andare in Europa a contrattare oppure pensa di far uscire l'Italia dall'Europa io ho fatto il ministro, il vice premier si hanno detto che non l'hanno mica vista spesso come ministro dell'interno praticamente mai perché è così difficile rispondere vabbè grazie